Dovete pensare che, a differenza dell'Argentina, le classi alti brasiliane hanno abbracciato il fucibol subito. E quindi si andava la partita nella Rio de Janeiro del primo novecento, vestiti come nella belle époque francese. Sì, però c'è un po' di differenza. A Parigi fa freddo, a Rio de Janeiro fa un caldo becco. Le signore elegantissime avevano i guanti, ma dopo cinque minuti di partita se li toglievano. E poi seguivano nervosamente la gara e prendevano questi guanti e cominciavano a strizzarli, a torcerli. Quindi un giornalista brasiliano chiamò le tifose Torse Doras.